Con ogni probabilità il 2021 rappresenta l'anno della svolta per la ricostruzione post-sisma, 5 anni dal primo evento che sconvolse il centro Italia nel periodo 2016-2017. A confermarlo sono i dati delle pratiche concluse e dei decreti di contributo emanati almeno nel Comune di Teramo, dove nei primi 7 mesi dell'anno per quanto riguarda la ricostruzione privata è stata portata avanti una mole di lavoro pari a circa il totale dei 4 anni precedenti. Anche a Teramo la situazione è profondamente cambiata, i numeri della ricostruzione privata sono decisamente cresciuti, il trend continua a crescere costantemente nel 2021 grazie all'ordinanza 100, al lavoro straordinario dell'USR, dei sindaci e devo dire anche dei tecnici, professionisti che si stanno mettendo a disposizione in un'ottica anche di maggiore fiducia e di collaborazione. È chiaro che tante sono le situazioni che devono essere migliorate perché va recuperato dopo 5 anni questo sentimento di fiducia in un momento che comunque è decisivo e deve portarci assolutamente a cambiare passo. Sulla ricostruzione pubblica il discorso è più complesso. Siamo stati costretti per 4 anni a lavorare con misure ordinarie, in una condizione di straordinarietà. Ora, grazie anche e soprattutto alle ordinanze speciali, nella nostra città abbiamo una serie di procedimenti che sono in via di accelerazione, sia per quanto riguarda le scuole, con l'ordinanza Teramo che sta viaggiando velocemente, la sede municipale e ovviamente tutti gli altri interventi importanti che riguardano le altre ordinanze speciali sulla nostra città, sia l'ordinanza relativa alla città di Teramo come città capoluogo, 48 milioni di euro finanziati con l'ultima ordinanza speciale e poi abbiamo il patrimonio ATER. Ho letto anche della polemica da parte degli sfollati delle case ATER, ai quali va ovviamente non solo la nostra vicinanza ma il nostro sostegno istituzionale. Noi abbiamo voluto fortemente che anche l'ATER chiedesse i poteri speciali perché l'unica strada che abbiamo è che ha l'ATER per poter accelerare i tempi su quella che è una ricostruzione pubblica ancora più incisiva e pesante perché riguarda la vita delle persone, è un'edilizia pubblica residenziale, quindi i ritardi legati alla ricostruzione pubblica incidono appunto su famiglie che dopo tanti anni ancora non vedono una prospettiva di rientro nelle loro abitazioni. Gli sfollati però chiedono anche che venga accelerato un po' l'ITER per il contributo di autonoma sistemazione? Sì, si deve senza dubbio, si devono accelerare questi passaggi burocratici ma sono tempistiche che sono definite ovviamente dalla norma. Poi ovviamente nei comuni che hanno numeri più alti, sul termo abbiamo ancora 700-800 nuclei familiari interessati, è chiaro che la situazione diventa ancora più complessa.